ragazzi io sono ricordo benvenuti in questo video siamo subito di sponsorizzazione che avevo detto nel video di tap tap fish ma mi si sta pure aggiornando tap tap fish avete visto prima l'aggiornamento tap tap fish aggiornato bene partiamo subito con il video di sponsorizzazione non mi ricordo dove hanno commentato con la città di sponsorizzazione mi pare che hanno commentato qua prima video questo qua ragazzo prima questo video da 4 ottima ok sa ecco eccolo quasi sì quindi questo il primo canale karma panic 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 non so come si pronunci vabbè che porta nier automata dark souls mamma mi dark souls quando è che non devo comprare il gioco sulla prestigio no 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 sulla prestigio sulla xbox 360 una bella e aveva un mago mi pare che mi ricordo male non mi ricordo ma mamma mia ben ricordi veramente ben ricordi casomai se karma se ne porti ancora di di dark souls sarò figlio di vedermelo abbe che porta al media di un canale world to un canale world to passate verso 3174 iscritti auguri un video ogni due giorni interessante ha attivo il tempo gioco gioco aveva il tempo di giovane lo trovi avrebbe shock anche lunga nel world through l'ho qua sponsorizzano lucio 45 video divertente ci vorrei essere la blog blog minecraft story mode minecraft poi ma in dove scioglia la be marica siano le minecraft e trash royale poi si apporta altri giochi non lo so vediamo no cresce loiamo che scioglia la parte che sono reale qualche video divertendo porta più niente no prendiamo indietro e un po con la sponsorizzami qua è fatto la prossima canale dai cattivi se no non ha senso a lui no a ciao franci iscritto like mi sponsorizzi grazie bravo ma va bene non ti preoccupare di sponsorizzarsi 112 iscritti alex deprovo 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 6 aspetta lo sponsorizzato bene ultimamente che sponsorizzano spanchi a spanchi e sto aspettando ancora mi commenta grazie per mi sponsorizzato grazie tante non fa niente poi passa da me iscritto grazie da tony wolf non iscritti però attiva se vuoi sponsorizzano va bene sponsorizzosi game wall certo strong boy 05 game wall faccia di favici come di cinque giorni fa ma scusami siamo youtuber attivo perché non pubblichità pubblica pubblico come cerco di pubblica un video al giorno anche uno due video al giorno quando è sabato penso che porterò never recudo is back poco autonica sta parlo da sbaglio sarà proprio portando con sopra l'accudo back vabbè bomber like per te si una cosa alla volta calma ragazzi siete un miliardo di voi cerco di sponsorizzare tutti mega super finale tra la lascia appeso perché porta principalmente motociclette calcio interessante è un canale da blog sicuro vediamo intrattenimento si noi non so che portare un video vediamo un poco e sponsorizzami allora vediamo un po cos'è prima sponsorizzami guarda i quanti ma ti con i sei poi ma ti sei adotto che mi fatti gli iscritti ah vabbè tanto tutto fai come vuoi tanto tutti quanti dobbiamo ottenere gli iscritti no quindi poi sei libero di farlo non ti preoccupare chi è questo è bello a bello l'inglese qua quello poi pensa che lo sto sponsorizzando la vita quello non mi capisce no è bello guardate la sua immagine profilo un bambino con la faccia enorme loris a loris che anche lui canale world true sì sì anche lui canale world true sì dai anche lui il canale world true aspetta meglio la commento un video di come se sono sponsorizzata come dalle presi gli altri video si è stato sponsorizzato bene ci manca più un attimo ci sono sponsorizzati chiunque quindi se qua se nel caso in cui mi sia dimenticato di qualcuno basta che me lo direi vi farò un video a parte e vi sponsorizzano ci sono problemi però me lo dovete dire altrimenti potessi che me ne dimentico questo è il bomber questo giallo spazi questo sito sponsorizzato giorgio unboxing va bene signore demoniaco che come si chiama il nome pokemon ma che ma pokemon pokemon a bello bello sono guardate scritti 5.000 like 50.000 like a bene fra world true unboxing massima mi fosse anche così a approcino due danni o cia tu mi devi portare un video voglio un video di naruto porca punto bisogna avere con il tuo fratello e mi piace una cifra a porta ma anche tu porca muttana e porta me lo porto pure io non so qua non vuole portarlo dai voglio un video di naruto e scopazzo soprattutto per naruto high school di xd e one piece scopazzo infatti guardatemi lo sfumo dire balance break e 6 8 in balance breaker con il dividing con il braccio destro in dividing gear perché gli assorbite potere a bali albion post e tokyo questo explosion bello pure quando fa dragon shot dopo otto potenziamenti di parte londra draconica proprio alla cazzo di cane penso un poco quella spara un'altra cosa sembra quasi che la voglio ma quasi che voglio sparare super il culo il drago no dragon shot penso che sia sponsorizzato tutti i ragazzi allora vi ricordo quello che ho detto prima se qualcuno vuole essere sponsorizzato commentarsi che con la lasciata che sponsorizzami se per chi invece questo è che ah sì 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 mi sono scritto nel caso in cui ipotetico mi sia dimenticato di qualcuno me lo dica io farò un video a parte in cui vi sponsorizzo oppure per chi vuole essere sponsorizzato come gente nuova sto parlando di chi vuole essere sponsorizzato basta che me lo dice tra i commenti con l'hashtag sponsorizzami oppure basta che me lo dice semplicemente cioè sponsorizzami io quando potrò vi fare un video sponsorizzazione cerco di sponsorizzare tutti sottolinea questa parola a tutti faccio un culo quadrato se poi mi sono dimenticato vi farò un video a parte va bene da ricudo è tutto noi ci vediamo domani con un prossimo video nei prossimi giorni arriverà un video di guida la lotta partenza e terza e terminiamo con la lotta e passiamo alla guida alla storia partendo dal paleolitico fino ad arrivare alle guerre mondiali oppure viceversa discorso a retruso poi pensate dalla seconda guerra mondiale fino al paleolitico neolitico vabbè detto questo da ricudo è tutto noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao ragazzi